Prima di iniziare con tutti i news ragazzi vi ricordo di fare un salto su Eneba. Cos'è Eneba? È un sito dove potrete trovare un sacco di videogiochi a prezzo scontato e per voi che sicuramente giocate a Fortnite potrete trovare anche tutti i codici di fumetti, bundle anche che non sono presenti in un shop a prezzo scontato. E' veramente infinita la lista quindi potrete trovarci un po' di tutto anche ovviamente i V-Bucks eccetera. Link ovviamente in descrizione basta che cliccate quel link e vi porta subito sul sito di Eneba dove potrete sia fare acquisti ovviamente inerenti a Fortnite ma anche ovviamente altri videogiochi ripeto tutti a prezzo scontato. Comunque velocissimamente come si fa ovviamente a prendere un oggetto? Prendiamo ad esempio questo se voi schiacciate compra ora vi porterà in una schermata ovviamente scegliete il vostro metodo di pagamento e come possiamo vedere qua vi danno già tutte indicazioni se può essere riscattato in Europa, quale piattaforma lo può riscattare e il codice vi verrà ragazzi inviato via email che vi chiederà ovviamente appena farete l'acquisto. Quindi mi raccomando link in descrizione. Ragazzi bentornati in questo video recap patch 23.50 una delle ultime patch in teoria di questa stagione se non l'ultima addirittura a livello di dimensioni grandi quindi ci sono grandi novità, ricompense gratis, bundle eccetera inoltre è confermato che ragazzi purtroppo per la fine di questa stagione non avremo nessun evento finale quindi probabilmente l'evento finale sarà direttamente magari nella prossima stagione numero 2. Detto questo ecco il primo bundle che è ovviamente a prezzo scontato nuova skin a breve sicuramente avremo uno shop queste sono altre 3 skin che non sono state mi sembra decriptate proprio nei file però sono state comunque trovate credo che in realtà siano state trovate da salva al mondo perché ci sono anche mi sembra questo personaggio sicuro 100% so che di salva al mondo però da quello che ho capito potrebbero arrivare quindi anche in battaglia reale. Queste due non le ho mai viste quindi forse sono del tutto nuove fatto sta che sono 3 skin che dovrebbero arrivare in battaglia reale comunque. Qua infatti abbiamo poi bundle tutti a prezzo ovviamente scontato sono skin che in realtà abbiamo già visto sono solo messe all'interno di un bundle a prezzo scontato tra cui quello ovviamente i jonesy che è quello più recente poi insomma abbiamo altri bundle che già conosciamo benissimo. Poi nuova lobby musicale di pesce secco che arriveranno a shop in teoria poi abbiamo un nuovo deltaplano con il cavallo come possiamo vedere poi abbiamo queste emoticon e questo spray poi questo non so bene cosa sia non credo sia una ricompensa però queste due sono delle ricompense tramite un nuovo evento. Che dovrebbe forse essere già disponibile in game quindi molto semplice completate sfide e vi daranno XP e quelle ricompense lì. Poi qua abbiamo noi spray che ovviamente daranno tutti gratis in qualche maniera evento tornei. Qua vabbè grosso modo diamo un aggiornamento della mappa che in realtà credo non sia cambiato più di tanto ma ovviamente magari qualcosettina magari hanno cambiato. Poi qua abbiamo invece oltre gli spray i picconi abbiamo un backpack un emote con la mappa e altre cose belle che sicuramente daremo no shop. Questa poi ragazzi è una skin sondaggio che tra le altre cose guardate c'è anche lo spray che verrà dato tramite un evento sempre e nei sondaggi infatti c'era questa skin quindi molto probabilmente potremmo vederla in futuro quindi ovviamente nello shop o in qualche altra maniera nei pass eccetera. Poi andando avanti ragazzi qua abbiamo invece delle coperture armi che otterremo ovviamente all'inizio della prossima stagione solita storia quindi in base alla divisione arena che hai raggiunto durante questa stagione per tutto ovviamente l'asso di tempo una volta finita stagione ovviamente verrà dato questa copertura armi in base alla vostra divisione molto semplice. Ecco questa è la skin l'abbiamo già vista all'inizio la vediamo in maniera migliore qua abbiamo le sfide eccole infatti come possiamo vedere ci sono queste ricompense dovrebbero essere già disponibili. Poi questo ragazzi è il nuovo bundle playstation plus che dovrebbe essere dato a breve a tutti i giocatori questa è la skin e questa è la copertura armi probabilmente ci sarà anche qualcos'altro comunque all'interno. Qua recap velocissimo di robe che hanno messo all'interno dei file non vedo nulla di insomma di qualcosa che non abbiamo visto vedete qua c'è la skin che è di salva il mondo poi vedremo se arriverà anche su battaglia reale, sprite, iconi eccetera. Poi questa ragazzi invece è la lobby che in teoria verrà messa nella creativa 2.0 si dice questo invece è un nuovo evento che ovviamente porta un bel po' di ricompense gratis vi leggo anche due cose al volo dal comunicato ufficiale di Epic decifra i messaggi in codice. Nella sezione della pagina incarichi dove ci sono le sfide quindi troverà incarichi con obiettivi ben definiti e un incarico in codice con un obiettivo ovviamente correlato. Dopo aver terminato un incarico in codice ne sblocherai un altro appena sarà ovviamente disponibile. Ogni giorno fino al 7 marzo 2023 verrà aggiunto un nuovo incarico chiamato cheaper o chiper e tutti gli incarichi saranno disponibili fino al 10 marzo 2023. Guadagna punti esperienza completando ovviamente gli incarichi poi con 7 incarichi completati ottieni o spray 15 incarichi completati ottieni o schermate di caricamento 24 incarichi emoticon e 3 incarichi soltanto la copertura. Quindi queste sono tutte le cose che dovete completare per ottenere tutte queste cose che vedete qui. Poi se completi un certo incarico chiper in codice sbloccherai lo spray un altro spray ancora quindi questo ovviamente è tutto incluso tutta roba quindi insomma che otterrete gratis. La cosa più interessante è sicuramente comunque vorrete prendere sicuramente la copertura armi che ripeto per la copertura armi dovete completare solo 3 incarichi chiper quindi molto molto semplice. Non so ancora come si completano perché non ho ancora giocato però insomma sicuramente ci sarà tutto scritto nella sezione incarichi poi per qualsiasi dubbio comunque venite pure anche nel canale telegram che magari vi rispondiamo. E infine ragazzi qua abbiamo la pistola e ovviamente questo fucile che sono tornati all'interno della mappa di Fortnite quindi sono trovabili per tot tempo poi magari le rimetteranno nuovamente in magazzino quindi saranno probabilmente limitate. Detto questo direi che ci possiamo fermare perché abbiamo visto tutte le insomma notizie principali di questo aggiornamento di quest'ultimo forse aggiornamento enorme cioè grande possiamo dire perché poi magari ci sarà la 51 magari patch piccole quindi diciamo che a livello di dimensioni probabilmente questa è l'ultima grande patch. Fatemi sapere cosa ne pensate ci avviciniamo comunque sempre di più alla nuova stagione fatemi sapere cosa vi aspettate insomma cosa ne pensate se siete soprattutto in hype. Noi ci salutiamo e ci vediamo domani come sempre o con un video normale o con uno shorts o altra roba. Bene.